Parigi a ferro e fuoco! Gli Abbas regnano col terrore! La banda non obbediva a nessuna legge. Seminava paura ovunque. Ognuno di loro lavorava per Gesù, il capo dei lupi di Montmartre. Io brindo a voi perché non vi mettete in ginocchio. Alleluia! Sono uno per bene, però ogni tanto uccido qualcuno. Un nuovo commissario è stato nominato per ripulire la città. Perché vogliono sbarazzarsi di noi? Ah, perché facciamo un gran casino, non possiamo negarlo. Come ti chiami? Billy. Voglio essere una pass. Io avevo un piano. Pensavano che rinchiudendomi l'avrebbero distrutta. Ma la rabbia che mi brucia dentro è incontrollabile. E diventerà il loro incubo. A Billy! A Billy! Non fidarti di lui. Se ti avvicini, finisci per bruciarti. Dovresti andare via, lontano da qui. E non tornare mai più. Ci conosciamo? Tu mi sembri di buon cuore. No! 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 Grazie a tutti